Piccola premessa prima di iniziare il video, perdonatemi se sentirete sempre le parole poi guardate, poi guardate, però non so cosa c'era il giorno in cui ho registrato il video o magari non riuscivo a parlare bene. Facciamo un piccolo giochino divertente contate quanti poi e quanti guardate ho detto, vediamo che record ho stabilito Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale oggi vi mostro degli stampi che ho realizzato con la gomma siliconica quella lì della Prochima che abbiamo visto anche un'altra volta ed è questa qui, la GLS50 e niente, come colorante questa volta ho utilizzato il giallo che poi è diventato tipo un color biscotto e i charm che ho utilizzato non penso che ancora li abbiate visti a meno che non mi seguite su Instagram vi ricordo sempre che l'account è Alicreation ma ve lo lascio anche giù nell'info box e penso che vedrete nello specifico questi charm in un altro video magari troppo di tempo quando vi farò vedere gli acquisti che ho fatto in questo ultimo periodo prima di iniziare con gli stampi veri e propri iniziamo con gli scatti che appunto mi è rimasto un pochino di gomma siliconica quindi ho voluto fare anche io una specie di creazioni con gli stampi però subito dopo che li ho colati mi sono ricordata che con la gomma siliconica non vanno molto d'accordo infatti ecco come vedete io ho già tirato fuori per paura che si fosse unito con la gomma siliconica questa qui e in effetti la situazione è questa ho tolto tutta quanta la lucentezza dello stampo e mi dispiace tantissimo però diciamo che ho ottenuto un risultato diciamo decente poi vediamo anche questo però non vi consiglio assolutamente di utilizzare la gomma siliconica in degli stampi con della gomma e io ho anche visto dei video simili se non mi sbaglio di Erika Kawaii però come una stupida mi sono completamente dimenticata che questa cosa non doveva essere fatta infatti ho combinato un macello perché praticamente la gomma siliconica sulla gomma si è unita ed è errato quindi non lo fate mai poi mai ecco anche questa purtroppo è diventata opaca non so se riuscite a vedere e quindi anche questo qui che se non ho sbaglio è un fiorellino ho rovinato lo stampo ma dettagli perché io se non le provo le cose non me le ricordo direi che questo lo posso praticamente buttare perché l'ho distrutto e mi dispiace tantissimo ne dovrò fare un altro questo ci ricordo ancora una volta che non lo dovete fare e in più poi nella mia disperazione di non voler buttare via nulla ma sempre perché devo riciclare ho detto ma si schiaffiamoci con la gomma siliconica vediamo cosa ne uscirà anche sapendo che poi forse dovevo buttare il coperchio e quindi vediamo che cosa ne è uscito mai da questa cosa orribilante vi dirò vi dirò vi dirò alla fine così orribilante non è e quindi si può utilizzare in qualche modo con la resina per fare non so che cosa ma lo utilizzerò vediamo a quelle che ci interessano veramente cioè questi questo è il prezzelino che carino poi questo è la ciambellina fammi di topolino guardate quanto sono lucidi questo era un dolce che non ho capito che cosa sia questo qui credo che sia uscito perfetto poi qua abbiamo un piccolo gelatino qui ne abbiamo un altro e qui un altro ancora carino poi qua abbiamo una piccola torta questa qui e lo stampo è uscito fantastico guardate questo la ciambellina guardate che carino il gelatino con lo stecco questo qua guardate perfetto questo qua che è l'anguria questo piccolino piccolino una piccola ciambellina guardate guardate quanto è perfetto con tutta la glassa anche dentro sapete che questa gomma siliconica è fantastica guardate tutti quanti i dettagli lucidi poi poi il il bicchierino e mi sa che abbiamo finito vediamo gli altri ok questo è un po' più spesso perché praticamente i dolcetti sono anche un po' più spessi e adesso capirete per quale motivo e partiamo da quello che è più spesso in assoluto più alto diciamo che è questo qui per quanto sono piccoli mi scappano dalle mani questo e praticamente lo stampo è venuto perfetto guardate non so come farò a colorare questi stampi quando usarò la resina ma penso che li farò dopo questa è la fettina di torta guardate la perfezione tutta anche la texture che ha preso poi una piccola pallina di gelato e anche questa è uscita perfetto perfetto non so se riuscite a vedere no perché forse non metto abbastanza a fuoco ecco tutta la texture che ha ripreso della pallina di gelato guardate ok poi questa che è una tortina così tutta fatta così ecco la texture eccola poi un'altra tortina se riesco ok questa era veramente difficile perché ha sopra le fagoline e guardate la precisione non vedo l'ora di usarli questo qui qui guardate perfetto guardate stupendo poi questo anche qua ha ripreso perfettamente tutti quanti i dettagli e infine questa che era una delle più difficili perché era bella alta guardate tutti i dettagli compreso la texture è finito sì quindi questi qua questo questo e questi altri lasciamo listare perché fanno schifo questi qua sono i miei stampi che ho realizzato di questi cabochon che vi farò vedere come vi ho detto già in un altro video in più in dettaglio spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre vi sia stato utile vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao